Melanzane, ecco perché possono rivoluzionare la nostra salute La melanzana è un ortaggio ricchissimo apprezzato in tutto il mondo, ingrediente fondamentale della tradizione culinaria di tutto il Mediterraneo. Ricchissima di benefici e proprietà per la salute, la melanzana può aiutare a prevenire e trattare varie condizioni di salute. . Questo ortaggio è ricco di fibra, composti diuretici, antiossidanti, vitamina E, acido folico e tantissimi altri minerali. Inoltre, ha proprietà antivirali e antibatteriche, può proteggere il fegato ed è povera di calorie. . Colesterolo. Preparare una bevanda con melanzana e limone favorisce la digestione e lassorbimento dei nutrienti necessari. Inoltre, stimola la produzione di bile, regolando i livelli di colesterolo cattivo. Clicca qui per la ricetta dellacqua di melanzane. . Peso. La melanzana è ricca di fibra, minerali e nutrienti che ci permettono di nutrire il corpo, sentendoci sazi e senza ingerire troppe calorie. Inoltre, avendo proprietà diuretiche, la melanzana aiuta ad espellere liquidi e tossine. . Reumatismi. La melanzana ha proprietà antinfiammatorie che sono utili per prevenire e alleviare i sintomi di artrite e reumatismi. . Le proprietà diuretiche della melanzana sono eccellenti. Se bevuta con frequenza e abbinata ad attività fisica costante, lacqua di melanzane e limone può aiutarci ad espellere tutti i liquidi in eccesso. . Diabete. Essendo ricca di fibra, la melanzana permette un miglior assorbimento e digestione dei cibi che consumiamo, regolando i livelli di zuccheri nel sangue e prevenendo il diabete. . 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 a body's high